A presto! Sarò una di famiglia anche io, speriamo bene, oggi presentiamo il programma, vedremo, scoprirò anch'io delle novità fra cui, ahimè, ci sarò anch'io! Sei emozionata? Sì, sono emozionata, sono molto felice perché Michele Guardi è un'istituzione della televisione italiana e poi perché è siciliano come a mia, per cui faremo scintille!